e cosa ripariamo oggi? ci ha portato un cliente questo 14 pro max è modificato da lui a casa dopo una caduta violenta si è rotta la back e lui ha pensato di sostituirla con una un po' particolare non ha fatto però caso al problema di nessuna sim sul servizio che quindi ripareremo noi in questo video è un problema frequente in questi iphone qui dopo un accaduto un urto violento il distacco di qualche connessione tra il layer superiore e il layer inferiore abbiamo già separato i due layer e stiamo ripulendo dal vecchio stagno utilizziamo la nostra treccia di saldante e lo stilo a far molta attenzione perché ci sono dei componenti molto vicini alle piazzole molti condensatori resistenze molto piccole quindi bisogna fare molta attenzione alla fine della pulizia ripuliamo con battufolo isopropilico e andiamo al test andiamo al test nel tester layer e vediamo se tutto è funzionante facciamo ripristino tanto era già formattato telefono come potete vedere il nostro sim adesso è regolare evidentemente proprio era una connessione tra i due layer che era crepata mancante andiamo a fare il reballing della scheda inferiore con la pasta stagno riempiamo per bene tutti i fuori e poi andiamo sopra per il riscaldatore a fondare la nostra pasta stagno vedete che come si fonde per bene per bene per bene ora è il momento di sovrapporre l'air superiore e lasciar fondere il tutto per qualche minuto e come vedete come vedete come vedete il segnale è tornato bene al prossimo video ciao ciao ciao